EasyJet è veramente interessata dall'Italia, ma vorrebbe acquistarne solo alcune parti. Siamo focalizzati sul breve e medio raggio, siamo forti qui e questa è la nostra area di focalizzazione. Hanno confermato i vertici della compagnia low cost britannica, aggiungendo che le trattative con i commissari di Alitalia sono in corso. Dello stesso avviso anche un altro vettore low cost, l'ungherese Witzer, il cui amministratore delegato, ha fatto sapere di essere interessato solo ad alcuni assist dell'ex compagnia di bandiera italiana. Grazie.